Chissà cos'è successo circa 20 anni fa Nessuno Contrabbando Chissà cos'è Oggi, maggio 2023 All'istituto Vivaldi Smerciamo follower Contro le mie debolezze Contro le mie paure Professore De Farco Io non ho ancora ben capito cosa succede Ma io giuro che lo scopro Presto Ma come facciamo ad accettarci Se non ci ascoltiamo davvero?